Abbiamo ad oggi 25 aziende che hanno presentato richiesta di lavoratori e vi sono 100 posizioni aperte. Queste 100 posizioni aperte hanno già incontrato al giorno d'oggi un centinaio di candidati che si stanno proponendo per i colloqui che avremo in programma il 23 di maggio presso Malpensa Fiere, però vi sono ancora aperte le possibilità di registrarsi attraverso il sito dell'entipilaterale, il sito che abbiamo creato appositamente dedicato a My Job Day. Un nuovo My Job Day dopo quello del turismo che ha avuto quali esiti? Esiti sicuramente positivi, per certo noi oggi sappiamo che almeno 10 lavoratori hanno trovato un'assunzione a tempo indeterminato. Chiaramente adesso sta partendo la stagione e quindi verificheremo poi quante posizioni sono state occupate e nel corso delle prossime settimane andremo ad indagare con le aziende per cercare di capire e avere dei dati precisi. Come è stato la prima volta con il My Job di Ispra dove abbiamo praticamente assunto la quasi totalità dei candidati.